Buon pomeriggio a tutti, siamo doppiamente contenti di questa iniziativa per aver reso omaggio a uno dei nostri tifosi più illustri, è un cittadino, è un romano ma soprattutto per noi uno dei nostri tifosi più illustri e per rendere omaggio anche a uno dei quartieri più romanisti che c'è in questa città e quindi tutto questo a noi ci rende particolarmente felici soprattutto quando riceviamo stimoli da chiunque per poter reagire e sottolineo in meno di una settimana si è realizzato tutto questo. Due parole solo per ricordare Gigi Proietti che è una di quelle poche persone che tutti sentono quasi come un proprio parente, esattamente come un rapporto simbiotico che lui ha e che questa città ha con la nostra squadra. Ecco su questo sottolineo ce ne siamo resi conto, ce ne rendiamo conto e cerchiamo di interpretarlo proprio cercando di essere sempre più vicini alla nostra città e ai nostri tifosi anche con iniziative come questa. Vi ringrazio e speriamo sempre di riuscire a fare qualcosa di gradito a voi. Vedete che vince qualcosa. Grazie a tutti, buon pomeriggio.